a non 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 ancora ha detto nulla sentiamo il tenore della domanda poi voi decidete se rispondere o meno ma se siete stati piagnoni voi per una vita ci abbiamo portato i giocattoli ridateci lo scudetto ma questo dico ti do il ciuccio ti do ma se avete per 4 anni eravate lì che stavate a dire avete rubato i scudetti per 70 anni e siete qui a rompere le palle eccola lì